Devo dirvi la verità miei cari fans, nelle mie canzoni vi ho sempre detto che ho vissuto la strada, che sono stato povero, ma in realtà ho sempre avuto i soldi, questa è la piscina che ho a casa, mio papà è molto ricco, da bambino mi ha sempre viziato molto, ho sempre vissuto nelle varie villette di proprietà della mia famiglia, sono nato con il culo parato, da ragazzino appena avevo un minimo problema telefonavo mio papà, ogni mese lui mi fa il bonifico al mio conto bancario, una bella cifra che non sto qua a dirvi, e se devo essere sincero non ho neanche voglia di lavorare, preferisco rilassarmi in piscino con qualche troia, andate voi a spaccarvi la schiena se n'avete voglia, io non ne ho bisogno, voi poveri nulla tenenti siete proprio patetici, mi fate venire voglia di prendervi a schiaffi, siete la rovina della società. Sì, ragazzi, mi dispiace dirlo, Montana è molto ricco, vive a Dubai, analizziamo il suo outfit, questi occhiali costano 70.000 euro, queste scarpe invece costano oltre 90.000 euro, King Montana è uno degli uomini più ricchi del planisfero, giravoce che a Dubai spende oltre 60.000 euro al giorno, spende soprattutto in slot machine, cibo e birra, infatti ha una panza notevole.